Sulla nuova serie iWave possiamo collegare dei dispositivi bluetooth come il pedale, la maschera visor connect con la tecnologia bluetooth, un semplice comando a distanza dove andremo a regolare la corrente di saldatura. Una volta che il nostro pedale è connesso tutte le regolazioni di corrente le andremo a fare tramite il nostro pedale quindi avrò la possibilità di saldare da un minimo di 3 ampere fino a un massimo di 180 ampere, 180 ampere perché io ho impostato 180 ampere di massimo, se avessi messo la corrente massima di 400 ampere il pedale avrebbe un'escursione da 3 ampere a 400 ampere. Non andrò più quindi ad utilizzare la torcia per fare lo start di saldatura ma lo farò sempre tramite il pedale. Per quanto riguarda la maschera visor connect che adesso andremo a collegare alla saldatrice, perfetto la maschera ora è collegata. Quali sono i vantaggi della maschera bluetooth? I vantaggi della maschera bluetooth sono che in primis se un saldatore di fianco che sta saldando con un'altra saldatrice la maschera non si oscura ma resta chiara, non è più influenzata dalle luci del muletto e mi evita anche la minima flashata all'inizio della saldatura, questo perché la maschera comunica direttamente con la saldatrice e appena io vado a premere il pulsante e torcia la maschera diviene scura.